Grazie a Giacomo Molinari. La giuria questa sera da chi è capitanata, quindi vi prego man mano di alzarvi anche per ricevere l'applauso del pubblico presente. Abbiamo due giurie, una tecnica e naturalmente un'altra della critica. Presidente di giuria Giacomo Molinari, che già abbiamo ampiamente salutato. Il maestro Adelmo Musso, direttore d'orchestra, compositore e arrangiatore. Marco Bizzoni, musicista. Franco Marino, cantautore e compositore. Danilo Bughetti, musicista e docente. Per quanto riguarda la giuria della critica, Ennio Abbondanza, Radio Centro Suono. La nostra cara amica Roberta Murzilli, conduttrice radio e tv. Il direttore dell'attualità, Salvatore Ventri, direttore del giornale, presidente dell'associazione Astro Verde, medaglie d'oro mauriziane per il Lazio. Daniela Parrozzini, attrice e cantante. Elisa Caminito, insegnante di canto. Alessia Di Natale, critico d'arte. E Ferruccio Fumaselli, presidente progetto Orfeo. Quindi veramente grazie a tutta la giuria. Buon lavoro. Ricordiamo che la giuria voterà. La votazione sarà a punteggio e va da un minimo di uno a un massimo di dieci punti. Ed ora presentiamo subito la prima concorrente che fa parte della sezione Under 14, Michela Cecere. Michela, qui ci vuole un applauso più forte, perché sarà proprio lei la prima concorrente a rompere il ghiaccio. E ci canta la canzone per sempre. Raggiungiamo postazione microfono codice 1. A te. Se un giornato tornassi da me dicendo che è stato un errore rinunciarmi a andare lontano, lontano da te. Se un giornato parlassi di me dicendo che sono il tuo rimpianto e non riesci a dormire, allora ti amire. Stavolta sarebbe per sempre, non importerebbe niente se le parole tue mi hanno fatto male. Ma tanto vale che stavolta sia per sempre. Perché l'orgoglio in amore è un limite. L'istante è solo per un istante. Ma tanto vale che stavolta sia per sempre. 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 Ma quanto vale che stavolta sia per sempre. Grazie a tutti.